Buonansea, l'aggancio, buonansea, punta la porta, buonansea, è un gol strepitoso. Buonansea, 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 uno slalom incredibile, la doppietta è servita, ma che gol ha fatto? Zammanyar va a lancio direttamente per Buonansea che ha preso campo, attenzione a Buonansea, buonansea ma in porta. Che colpo di genio di Barbara Buonansea. Cerca la sterzata Bonansea, Tortelli fa giù, Bonansea, in aria, Bonansea, Bonansea, Bonansea! Trenta, settesimo minuto, la sblocca, Barbara Bonansea, illegibile, incomprensibile per le avversarie, le ha fatte andare tutte giù. Il cross è morbido per l'inserimento di Bonansea! Uno a uno, un colpo di genio di Lisa Boatin, l'inserimento perfetto di Barbara Bonansea, che a casa sua trova a cuota il pareggio con una giocata bellissima della Juve! bei una è più ingrato di prima, da una. Letta, Letta! La stersata di Bonansea, il destro! Che gol di Barbara Bonansea! Qualità, precisione, tutto un gol alla Bonansea! Bonansea che apre il destro e fa 1 a 1 al 42esimo minuto! Un gran gol di Barbara Bonansea!